Quali amici? Si fa presto a dire Siamo amici Ho messo un pollicino su sotto il tuo video Oh, ti seguo da tanto tempo Siamo amici Quali amici? C'è un criterio molto preciso per riconoscere gli amici Gli amici sono quelli che creano insieme con te opere etiche Punto, tutto qua Non c'è amicizia se si mangia insieme una pizza Se si raccontano barzellette Se ci si dà pacche amichevoli sulla spalla Qual è un modo per ammazzare il tempo? È un modo per socializzare all'interno di certe culture Se vai in Giappone non puoi dare una pacca sulla spalla neanche al tuo amico È considerato invadente e offensivo Quindi devi capire che i modi per socializzare Non creano niente Sono soltanto un modo per ammazzare il tempo E continuare a far passare del tempo in presenza di qualcuno Che se ne condividi la cultura Allora risponde alla riservatezza O alla intimità A seconda delle culture Ma tutto questo non è amicizia Quali amici? Amici sono quelli che creano opere etiche Perché condividete non la cultura della pacca sulla spalla O della riservatezza Perché condividete la visione spirituale Amici sono quelli che riconoscono Il motivo per cui tu vivi Verificate che il motivo per cui tu vivi E il motivo per cui loro vivono Coincidono E decidete di collaborare Questa è amicizia Partendo da questa base Allora un amico è presente È leale Ma se non c'è questa base di missione condivisa Quando hai bisogno E dici all'amico Ho bisogno d'aiuto L'amico, tra virgolette, dice Eh ma io ho da fare altro Ho i miei interessi Non è un amico Non lo è mai stato Eh già ma mi hai fatto un regalo Mi ha regalato una pizza Avete ammazzato del tempo insieme La pizza l'avete consumata Ma non l'avete costruito Non avete mai creato un accordo per costruire Se non c'è accordo per costruire un'opera etica Non c'è amicizia Ripensa a tutte le persone che conosci Che consideri amici E domandati per ciascuna di esse Qual è l'accordo sociale che abbiamo creato Io e questa persona Per costruire opere etiche Se non c'è quell'accordo Non siete amici State insieme per ammazzare il tempo Perché abitate nella stessa zona Ma appena si presenta un'occasione migliore Dite beh io vado di là perché mi conviene O non ti seguo perché non sono abbastanza comodo O al massimo ti do una briciola Una briciola di quello che io mangio Non ti do quello che io mangio Perché sarebbe una fregatura per me Capisci? Gli amici dicono Beh dobbiamo realizzare la missione Cosa abbiamo da mangiare? Questo? Dividiamolo Non è sufficiente E allora Mettiamo nella nostra missione anche La creazione di sostentamento L'abbondanza Questi sono amici Ma quelli che ti frequentano Finché c'è da prendere Quelli che ti danno Senza esagerare Quelli che ti dicono Sì io ti sono amico Ma non vorrei che sapessero in giro Che ti conosco Quelli non sono amici Ammettilo Ammettilo E non perdere tempo Con della gente che Ti frequenta soltanto per ammazzare il tempo Magari è curiosa Di sapere come sarebbe ammazzare il tempo In tua compagnia Perché potresti essere simpatico Divertente E vedere cosa proponi Per ammazzare il tempo Ma tu sei un essere umano Non sei sulla terra Per ammazzare il tempo Sei sulla terra Per investire il tempo Nella Consistente Illusione Dello spazio-tempo Sei sulla terra Per investire il tempo E le risorse In modo da creare Opere etiche Che sviluppano La consapevolezza Che è ciò Che un essere umano Deve raggiungere Come si fa? Leggi i miei libri Ho spiegato perfettamente Come si fa Che è un essere umano Che sentire Che sentire Grazie a tutti